Musica Sono con Marika Di Pierri di ritorno dalla conferenza di Parigi finita qualche giorno fa, una conferenza importantissima almeno come l'hanno pubblicata i giornali media, una conferenza che per la prima volta sembra aver risolto o comunque trovato degli accordi per quanto riguarda il clima globale, in realtà stando lì le cose sono un po' diverse Marika. Sicuramente è una conferenza molto importante anche perché è il primo momento negli ultimi anni in cui il tema dei cambiamenti climatici è ritornato al centro dell'agenda internazionale, l'ultima volta, la ricorderete, era stato il vertice di Copenhagen nel 2009 quando bisognava firmare un accordo globale sul clima che sostituisse Chioto e invece non si riuscì a raggiungere un accordo. Il momento successivo fissato durante la conferenza di Durban era appunto la ventunesima conferenza che si è tenuta a Parigi all'inizio del dicembre scorso, si è conclusa il 14 dicembre scorso e una conferenza che è uscita con un accordo, un accordo che ha visto la firma di 195 Paesi. Da questo punto di vista si tratta senz'altro di un successo dal punto di vista diplomatico, è la prima volta che un numero così alto di Paesi si impegna firmando un accordo per agire contro il cambiamento climatico. Tuttavia gli obiettivi molto ambiziosi contenuti nell'accordo si parla di contenere l'aumento di temperatura entro i due gradi, ben al di sotto dei due gradi, possibilmente compiendo gli sforzi necessari a mantenerlo entro il grado e mezzo, non prevedono tuttavia degli impegni all'altezza degli obiettivi fissati. Gli impegni sono purtroppo insufficienti per raggiungere questo obiettivo. Valutando gli impegni assunti dai singoli Paesi, gli impegni di riduzione, diversi scienziati hanno calcolato che si avrebbe un aumento di temperatura di circa 3 gradi, secondo alcune stime l'aumento sarebbe anche superiore. Da questo punto di vista bisogna sottolineare quindi l'insufficienza degli accordi presi. Un esempio riguarda la Cina. La Cina ha firmato l'accordo ma si è impegnata a iniziare a ridurre a partire dal 2030. La scienza ci dice una cosa ben precisa che non si può aspettare oltre. Questo accordo tra l'altro entrerà in vigore nel 2020, quindi nei prossimi 5 anni ci sarà un regime che non prevederà l'applicazione dell'accordo di Parigi, ma continuerà a vigere Chioto. I limiti di Chioto li conosciamo bene. Chioto raccoglie soltanto 37 Paesi, ovvero appena il 12% delle emissioni globali. È chiaro quindi che non c'è il radicale ripensamento di modello che sarebbe necessario per far fronte all'emergenza climatica, che è individuato ormai da tutti come la più grande emergenza che ci troviamo ad affrontare, non più soltanto dagli ecologisti ma anche dagli economisti. Basti pensare agli ultime affermazioni del Fondo Monetario Internazionale per citare soltanto un'istituzione finanziaria che ha individuato il cambiamento climatico come un fattore che potrebbe causare un'instabilità dei mercati globali. Leggendo le 31 pagine del testo dell'accordo ci si rende conto che per mettere d'accordo tutti, molto spesso alcuni contenuti sono stati negoziati a ribasso rispetto all'ambizione che avrebbero dovuto contenere. Prima di tutto non esiste, non appare nell'accordo il termine combustibili fossili come non appare il termine petrolio, il termine carbone e invece l'elemento centrale che avrebbe dovuto contenere l'accordo è proprio rinunciare immediatamente all'estrazione dei combustibili fossili. Secondo la scienza bisognerebbe rinunciare da domani ad estrare l'80% dei giacimenti di combustibili fossili conosciuti. Questo non è minimamente contenuto all'interno dell'accordo. Un altro elemento di criticità è che non si parla degli incentivi ai combustibili fossili. Ancora oggi sono 5.300 miliardi l'anno, secondo appunto i dati del Fondo Monetario Internazionale, gli incentivi che vengono dati per l'estrazione di petrolio, gas e carbone. Gli incentivi per le rinnovabili sono appena un sesto. È chiaro che se non si annullano completamente gli incentivi ai fossili sarà molto difficile indurre le imprese e i governi a rinunciare ad una fonte che è colpevole della gran parte delle emissioni in atmosfera e quindi del processo di riscaldamento globale. Un'altra mancanza enorme dell'accordo è la non previsione di meccanismi di controllo e di sanzione. Questo vuol dire che se un Paese dovesse non adempiere agli obiettivi non ci sono al momento degli strumenti che permettono intanto di controllare e poi di sanzionare il Paese che appunto non raggiunge gli impegni che ha assunto. È chiaro che questo invalida molto l'efficacia potenziale dell'accordo e su questo bisognerà ragionare con molta urgenza negli anni a venire. Ulteriori elementi di criticità riguardano ad esempio il trasferimento di tecnologie che è contenuto nell'accordo. Il trasferimento di tecnologie viene auspicato, tuttavia non si mette in discussione il tema della proprietà intellettuale o ancora sul meccanismo fortemente voluto dai Paesi in via di sviluppo di loss and damage che sarebbe il sistema di risarcimento per i danni permanenti subiti soprattutto dai Paesi del Sud non vi è definizione rispetto al sistema di indennizi. Quindi anche questa rimane una enunciazione generale senza però un piano applicativo che possa garantire una reale poi efficacia dei meccanismi di indennizzo. Infine un tema importantissimo riguarda il finanziamento, quindi il Fondo Verde per il Clima che era stato già definito durante il vertice di Cancun nel 2010. Si è ribadito l'impegno a versare nel fondo 100 miliardi l'anno fino al 2020, tuttavia fino ad oggi dal 2010 soltanto un decimo di questa cifra è stata versata. Quindi bisognerà al di là dei proclami vedere poi quanti governi faranno seguire al loro impegno, alla loro intenzione il reale stanziamento dei fondi necessari a garantire politiche di mitigazione ed adattamento nei Paesi del Sud che sono i più colpiti dagli effetti del cambiamento climatico. Di fronte all'insufficienza di questo accordo è chiaro il ruolo che dovranno avere nei prossimi mesi, nei prossimi anni i movimenti per la giustizia ambientale, quindi la società civile, gli enti locali, i sindacati, le imprese virtuose. C'è bisogno di una grande alleanza a livello globale che però agisca soprattutto a livello nazionale. Naomi Klein che è un'attivista, una divulgatrice e scrittrice che tutti conosciamo ha parlato alla fine della COP valutando appunto l'accordo come assolutamente insufficiente e ribadendo il ruolo importante che devono avere i movimenti. In Italia abbiamo moltissimi movimenti di opposizione contro progetti basati sullo sfruttamento, quindi sull'estrazione, sulla trasformazione, sul trasporto di energia prodotta da fonti fossili. Continuare a fare battaglie di opposizione territoriale contro tutti questi impianti e quindi fare in modo che le lotte territoriali escano anche dalla loro specificità e si colleghino ad un movimento globale ampio per fermare il cambiamento climatico è sicuramente la direzione che dobbiamo prendere. Tuttavia dobbiamo anche coagulare attorno a questo tema altre forze sociali. A partire dai sindacati il tema del lavoro, della giusta transizione è stato molto presente nelle discussioni di Parigi, purtroppo non appare nell'accordo ma sicuramente i sindacati devono appunto lavorare anche per chiedere una conversione ecologica delle produzioni, mettendo questo tema a fianco dei diritti del lavoro.